C'è un altro piano, chi aveva e qui dì una ucciata, mi sono in pericolazione, mi sono in pericolazione, e aveva e qui dì una ucciata, non si è ammazzata qualcuno, un ruolo, ma cacchino se ci fosse, che erano in pericolazione, non si è ammazzata, e poi si è vista la caccia.